Sbanda con la moto e finisce sotto un autobus. È successo in mattinata a Falconara, lungo la strada che dal centro conduce a Marina di Montemarciano. Il centauro Roberto Corso, operaio metalmeccanico falconarese di 57 anni, in sella alla sua Malaguti Spider Max 500, va verso Marina quando perde il controllo della moto, mentre un'auto davanti a lui svolta a destra per entrare in un distributore di benzina. La moto impazzita, graffia l'asfalto, finisce nella careggiata opposta, dove procede un mezzo di linea della Conero Bus con a bordo un paio di persone. L'autista Sauro Cimarelli, 42enne di Senigallia, riesce a frenare in tempo, evitando il peggio. Il 57enne finisce sotto la parte anteriore del bus, con il braccio a pochi centimetri dalla ruota. Viene trasportato d'urgenza nel vicino ospedale regionale a Torrette di Ancona, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sono preoccupanti. La polizia stradale di Ancona sta ancora lavorando per chiarire la dinamica. Sul posto anche i vigili del fuoco di Ancona.